Il Manifesto per la Sanità Locale sabato ha organizzato un convegno per discutere con la politica i problemi relativi al nostro sistema sanitario. Che cosa è emerso? Il primo dato che è emerso è che purtroppo per chi decide in questa regione e in questa provincia sulla sanità è emerso il totale disinteresse, visto che avevamo invitato tutti e non sono venuti né dalla regione né dal Comune di Spezia né anche da quello di Sarzana. Questa è una cosa preoccupante perché all'attenzione di questo convegno avevamo messo sia la questione della carenza di personale e di posti letto, purtroppo ancora in ulteriore diminuzione rispetto ad anni fa, sia la questione di che cosa mettiamo sul territorio dentro le case della comunità finanziate col PNRR. È chiaro che la diminuzione di posti letto e di personale comporta problemi per i cittadini, quindi liste d'attesa o migrazione in altre regioni o in altre città per farsi curare. Avevamo invitato tutti, del centrodestra che ora è al governo e anche dell'opposizione, è venuto solo il consigliere Medusei e gli altri non sono neanche venuti. L'altra grande questione che ci riguarda da vicino è la costruzione del nuovo ospedale. Che ITER si prospetta? Su questo era la terza questione che avevamo messo all'attenzione delle nostre domande, cioè il fatto che pur essendo come noto da noi contestato il progetto di ricorso al privato, noi comunque vorremmo che i 15 milioni di euro di canone che l'Asla dovrà pagare ogni anno per 25 anni e mezzo al privato, non fossero a carico dell'Asla e quindi dei cittadini spezzini. Questo comporterà chiaramente, se fosse così, comporterà che ci saranno meno soldi per fare nuovi servizi e nuove strutture dove far curare gli spezzini. Anche su questo avevamo chiesto alla politica di intervenire, come detto il centrodestra è stato assolutamente assente, ci sono intervenuti solo i consiglieri al centrosinistra, un buon intervento è stato fatto dalla CGL locale e devo dire onestamente, anche per fare un po' il bilanciamento delle posizioni, che mi aspettavo la partecipazione di molti sindaci e purtroppo c'è stato solo un sindaco di Bonano che è stato presente e basta.